Assessore, per quanto riguarda i parcheggi a Sanremo, che cosa cambia? Intanto prolungheremo i 45 minuti a Palafiori all'infinito, nel senso che abbiamo verificato che è possibile dare l'accessibilità al Palafiori anche dopo che saranno terminati i lavori sulla viabilità ordinaria legati allo scolmatore di via San Francesco. I parcheggi, e lo vorrei ribadirlo, i parcheggi controllati con sbarre, quindi lungomare Calvino e nuova stazione dei treni hanno la gratuità per la prima mezz'ora, che rimane tale, rimarrà tale per sempre. Abbiamo deciso di mantenere la tariffa di 1,20 euro sul lungomare Calvino anche per il periodo estivo, in realtà all'interno delle sbarre costerà meno che fuori, perché lì era previsto dal vecchio regolamento, dal regolamento vigente, che invece fuori dalle sbarre, sulla ex zona B1, il lungomare Calvino, fuori dalle sbarre, fosse la tariffa 1,50 euro e quella rimane così nel periodo estivo. Noi invece manteniamo e abbiamo abbassato quindi i 30 centesimi all'interno delle sbarre. Per quanto riguarda il resto, stiamo cercando di riorganizzare anche i parcheggi bianchi, cioè di dare una minor fruibilità in termini orari, cioè invece che le due ore, portarle a un'ora o a 45 minuti, per dare maggior possibilità di fruizione a tutti in centro. Soprattutto creeremo delle zone bianche in cui fare la piccola commissione lontano da Palafiori e adesso è un problema perché non esistono.